Ci sono numerosissime ricerche e indagini per ottimizzare l'uso della risorsa idrica. Noi abbiamo un programma nazionale a questo scopo anche che viene finanziato con le risorse comunitarie e quindi metteremo a frutto tutte le possibilità che abbiamo per rendere l'utilizzo della risorsa acqua il più efficiente e il più efficace possibile.